Abbiamo già intenzione come Wunderkammer indipendentemente di celebrare l'anate a Tebaldi con un concerto e quando siamo stati coinvolti abbiamo pensato a questa tavola rotonda che avrà luogo domenica alle ore 17 a Palazzo Montani Antaldi per cui ringraziamo non solo il Comune ma anche la Fondazione Cassa di Spagna di Pesaro per l'ospitalità e poi a seguire alle 21.15 ci sarà il concerto con Diana Guglina, soprano bulgaro che esce in qualche modo dalle nostre scuderie se mi ha consentito a definire così il rapporto che c'è poi Lorenzo Bavai che è ben noto agli uffici come pianista accompagnatore Abbiamo cercato di puntare al meglio e credo senza nulla togliere ai relatori che sono in scaletta abbiamo Michael Aspinall che è un nome illustrissimo perché si tratta direi senza tema di smentita del maggior storico della vocalità a livello internazionale A seguire mi piace citare Carla Maria Casanova che è la biografa ufficiale di Renata Tebaldi ed è una saggista e giornalista molto importante in campo operistico e musicale poi abbiamo Alessandra Rossi che è la referente artistica della divisione opera Wunderkammer Orchestra ed è un'apprezzatissima docente di canto nonché soprano Noi italiani in particolar modo Pesaro si possono sentire onorati e freggiati di questa grande concittadina ecco per me è un grande onore in qualità di soprano che ho svolto una carriera di circa 20 anni non ho potuto affrontare il repertorio della Tebaldi, la mia era una voce tipicamente mozzartiana ho avuto la soddisfazione di esibirmi in teatri importanti dalla scala in poi e poi dopo mi sono dedicata alla didattica per la quale ho una particolare versatilità e questo mi ha avvicinato sempre più a questi grandi interpreti di quest'arte che possono essere per noi una luce ispiratoria che possono illuminare il cammino di tanti giovani che in questo momento si dedicano con spirito di sacrificio e pazienza a questa bellissima ma difficile arte